questo calcio di punizione piede sulla palla parte il tiro Rete Rete Maradona ha segnato magnifico calcio di punizione da parte della formazione napoletana vedremo chi partirà parte Recompa con sinistra confusione Rete un gol straordinario 8 minuti e la partita cambia Giabò straordinario Luca pallone che vedete spatta sul palo interno e termina in Rete 1 a 0 inizio che era solo quello che parte con il digno che è il gol di noi il digno ma la mia famiglia che è il gol che è il gol che ha fatto con il digno l'altro è eccezionale io mi alzeria che è libera proprio l'impatto un po' è eccezionale ha messo sul palo del portiere forte Astounding! Here we come. Oh my word! Can you believe the genius of this man? What a hit! David James stood like a statue and already united a tour both from Cristiano Ronaldo. Well, you look at David James, you hold your hands up and you say, Unstoppable! Ya lo hace! Pierna derecha! Diego Alarco! Golazo! 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 Well, it dipped and it's coming! What a magnificent strike! You will not see many better free kicks than that! Juninho! E' breve la ricorsa del piano, schiato Rizzoli Parte del cielo, del cielo, rete, rete, ancora la nuova più bella risposta quando lo treni Perdoe un po' il tempo, l'unico è staccato, ma la balla è fantastica, gacciata con Eric, giustamente, porta a girare tutto I just can't raise the room here with a goal I don't believe it, David Petrope scores the goal to take England all the way to the World Cup winning Confrande Giulio e Vite E' l'ouverture del score for Lyon, la macchina Koufran relancé Giulio qui marca Ce 3e Koufran in 10 giorni Oh, can you believe that? Is that the icing on the cake or what? What a goal, what an absolute missile E' l breathe, intrla? è un chute violento è un giocatore la 100th internazionale apparence and look at that from the Bayern midfielder 2-0 to the visitors and that is an absolute curler too far for Ronaldo to think about it oh absolutely sensational he went through Armonia beat the pace Breda shoot it's a good win it's a good win it's a good win now the game is not Breda it's a good win goal Rivaldo minuto 3 del partito primera pelota che tocca Primerno del Vars forza di Del Piero la battuta direttamente a rete Alessandro Del Piero Alessandro Del Piero se c'era da firmare un gol per il ritorno della Juventus in Europa non poteva che essere la sua la firma quella del capitano dov'è il compito cominciare la prima Oh, è brillant! Just brillant to get over! Dimitri Pella from West Ham United Are they on their way to Renly? Oh, is it? Oh! I don't know. Dimitri Pella Oh, my God, dimitri Pella That's amazing. Do you want? Yeah! Nooo! 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 Sì, qui c'è Coutinho, e ha scolto, bravo, davvero. Rai tra l'amore, 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 l'amore. Voi, l'amore, 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 l'amore. Di tirato fulego, attenzione, Ronaldinho, Matteo, gol! È Ronaldo, è un gol perfetto, è un gol perfetto. Grande distanza, prova a Totti, potentissimo, è un gol leggendario. Totti, una delle più belle punizioni che abbia mai visto, quindi io chiedo anche il conforto di lui. A questo è il gioco, è il gioco, è il gioco, wow, wow! Bonnidio, il gioco è in gioco. Il gioco è in gioco, il gioco è in gioco. Batte Ibra, Slaeta! Ibraimovic! Chissà se riuscì a vedere a che velocità è andato questo pallone. E come la Messi fa, che gol che ha fatto incredibile. Se l'aveva provato prima, e poi l'aveva la fitta con un bag. Otti, ottico, 4-1. Insanuali! Otti, ecco! Totti, tutta la联 Once King! Otti, di voto! Grazie 34 minuti 34 minuti 35 minuti 35 minuti 36 minuti 37 minuti 87 minuti 38 minuti Ohhhh! It's Necamora, it's another one! A moment of magic, himself to Galee! It's Messi, it's magnificent! You are watching possibly the greatest footballer ever! Ohhhh! I'll worship in Israel as well. It's impressive at all... Yes! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.